Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida, io sono Altair e oggi vi mostrerò dove si troveranno tutte le statuette di Kalus per ottenere il trionfo fan numero 1 e l'involucro Eidolon. Se il video vi sarà d'aiuto e l'avrete trovato utile vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale così da potermi supportare. Come ho detto nei precedenti video questa sarà la guida definitiva alla scoperta delle statuette di Kalus. In descrizione vi lascerò anche il singolo minutaggio con la descrizione e qui nel video vi metterò le scritte dei luoghi in cui si troveranno le statuette. Quello che dovrete sapere è che tre statuette si troveranno nelle viatano mentre le altre sei nelle recisioni. Una volta che le avrete raccolte tutte vi basterà andare a Elm e posizionarle e otterrete il trionfo fan numero 1 e l'involucro Eidolon. Detto questo spero di esservi stato di aiuto, nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non vi sia stato chiaro scrivetemelo nei commenti e vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destini 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e vi auguro una buona ricerca alle statuette di Kalus. Ciao ragazzi! Guardiana, quando avrà finito riferisci al corvo che vorrei parlare con lui. Parlerò con te, imperatrice, ma da pari a pari. Dopotutto siamo entrambi nobili e faresti bene a ricordartelo. E tu faresti bene a ricordare che ti sono superiore. Inchinati come ti inchini a quella serpe di tua sorella. E tu faresti bene a ricordare che ti sono superiore. Andata, avrà finito. Grazie. Dunque, guardiana, il corvo vuole essere me oppure teme di esserlo già? C'è una terza opzione? Struggersi nel miserabile limbo della tua vita? Gli infami ti trascineranno nella mia, prima o poi. Quegli elixni meritavano di riposare in pace. Di scelte nella tua vita. Di certo non eri un figlio smarrito che rimbalza tra figure autoritarie. Com'è stato gestirlo, guardiana? Amplificatore online. Relevo anche il comandante. Come sappiamo dal corvo, questi dispositivi saranno utili. Ma il successo dipende dalla gestione dei demoni di Zavala. Amplificatori operativi. Isolamento completato. Ora manca solo la recisione. Guardiana, Zavala è pronto. Concentrati sul tuo punto di vista e vinceremo. Sono sul posto. Preparo la mia etitrice. Questa missione non ti darà la pace che desidera. La devozione per il viaggiatore ti prende... La mia etitrice è passata. La mia etitrice è passata. La mia eitrice rilale è passata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.